vuoi torino harmony se in battaglia scorre una vittoria certa allora attacca son zoo disse cio ed io dico che lui ne sapeva un pochino più di te sulle battaglie,Amico perchè le ha inventate e poi le ha Perfezionate in modo che nessuno potesse battere su Ring dell'Onore! A sinistra! Fermi! A destra, a destra! Vio, vio, vio! Quindi uso i soldi picchi in battaglia per comprare due esemplari di ogni animale sulla terra, poi li porto su una nave e pesto a sangue ognuno di loro! C'è una torretta laggiù! E da quei giorni in poi ogni volta con buchi di animali sono insieme nello stesso posto e chiamato Zoo! E quindi eccoci qua di nuovo sul Team Fortress 2 con il Myth of the Soldier. Tra l'altro vediamo come con il demonitore dopo l'ultimo video abbia superato le ore di gioco. con il soldato ne ho 4.2 con il demonitore ne ho 4.46 con il medico ne ho 24.49 va bene! Siamo su Mostrok e giocherò con scatola nera attacco di panico che hanno buffato praticamente l'hanno reso tutt'altra arma rispetto a quella che era quando l'avevano presentata e lo spadaccino mancato. Andiamo! Come siamo messi? Ah, siamo in schieramento! Buono! Buono! Ma Mighet! lag 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 mamma lag oh bellissimo lag i was lagging sorry accate questo dammi dammi il fucile dammi il fucile mi ricordo che io se non sentite nulla perché sono in ma che cazzo devo ricaricare allora una volta questo coso teoricamente era proprio un attacco di panico cioè dovevi usarlo nei momenti critici là c'è un cecchino con la macchina non mi piace non mi piace non mi piace quello se ci becca ci fa in culo mi hai mancato c'è una stichis qua ciccio ti ho visto non è che boom preso mi servono munizioni però la cosa buona della scatola nera è che ad ogni colpo a segno c'è un soldier che è andato in avanza scoperto bisogna passargli dietro quel cecchino lì bisogna passare per di qua vedere se perché teoricamente se è in ottica non dovrebbe vedermi da qua ok preso in pieno cazzo merda no ancora vivo bastardo l'ho preso però maledetti stanno campando tutti lassù over the roof over the roof hanno pure una sentry lassù ma come ci arrivano oh la sentry down and cyper town perfetto stiamo andando molto bene damose niente di qua merda c'è chino laggiù merda no cazzo mi è entrato in faccia troppo veloce eh lo scout è veloce devo dire che il soldier lo sto giocando parecchio bene in sto periodo ma soltanto perché ho la scatola nera perché veramente questa cosa questo cosa veramente troppo comodo inoltre è preciso non ha particolari buff potenziamenti o cosa o nerf che lo rendono una ciopeca e mi ha rotto il cazzo tu cecchino ti devi un po' levare stickies stickies incoming stickies mi serve un medikit qua c'è un medikit tipo ok merda inattivo no 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 non così non così l'ho ucciso e mi è arrivato il colpo da dietro perché si è aperta la sala cinesca vaffancula minchia tutti me li ha mancati tutti non è riuscito a abbaffarmele manco uno go ivy go i try i'm stuck i'm stuck too many for me too many eh sono andato in stack di nuovo sulle scale mannaggia la miseria le scale ng ehm upload the teleport cazzo cazzo maledizione devo ricaricare no vabbè maledetta sa cinesca merda merdo grande go 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 no 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 che sfiga cazzo però mi sto comportando bene dodici punti li ho fatti we must try hard all together di lavoro mi ha colpito qualcosa che non so nemmeno io cosa sia stato ma che no vabbè no ci hanno fatto la linea difensiva bella pesante non riusciamo a sfondarla ok no ok 就是 no eh sì però questo è gg perché almeno è stata combattuta non è stata proprio una overkill da parte nostra da parte loro alla fine era abbastanza equilibrata quindi giusto così andiamo riproviamo riproviamo beh alla fine 18 punti si è fatti da detective cat sta dominando la cosa buona è che abbiamo un medico che sa fare il suo lavoro come on don't quit mi stanno mancando ah 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 go away go away per carpa fk pyro with a doc e baffami questi mo porco giuda potrei baffarmi pure i missili ma questi no meccatevi questi proiettili tutti they are too many no vabbè no dai non me lo dire no che puttana ma porco ma stardo ivy stay over the point stay near the point ivy stay near the stay near the point so se non può andare lontano oh la e il medico è andato fa un incuro e grazie grazie thank you pyro i need it or you must stay near or you must be a ninja ma è tanto difficile da capire hai rotto il cazzo hai rotto il cazzo no vabbè no vabbè no me l'ha riflettato non ci credo non ci credo me l'ha riflettato dritto in faccia cazzo no 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 stay near the point stay near no guys please no vabbè è finito non ci credo abbiamo perso contro una manicotta di coglioni perchè la gente non fa l'ingegnere cioè ma perchè non dovete usare l'ingegnere dai preso we must kill this doctor cazzo oh uff pft meno male abbiamo due iris ma non bastano cazzo non bastano cosa? come? con quale forza fisica me l'ha passato mi ha preso da lì dietro da qui mi ha preso come ha fatto? ero da tutt'altra parte e mi ha preso da lì maledetto treno del ca cinque minuti ma come facciamo a resistere cinque minuti? tra l'altro doppietta mi son fatto bella no ci crepasti non prendi un medico ne ho bisogno adesso mi credo è tutto teleportia oh ok grazie cool cioè capite la longevità di questo gioco che poi è serratissimo cioè tu continui put 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 sto dominando un tizio No no no! I need a doctor! No doctor! No doctor! Please! Micro del naso! Beccatevi questi! Beccatevi questi! Pum! 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 Nel gruppo! Nel mucchio! Ma madonna di dio! Come ha fatto a uccidermi? Che tra l'altro mi stava pure curando un medico! Cioè gli è partito un critico come nel mio solito! Cioè io ho l'affortuna sempre ciò di beccarmi i critici addosso! Oh! Yuhuuu! Bahahaha! Quella non se l'aspettava! No vabbè mi sto uccidendo da solo non vedo niente! Maledette lag! Anita doctor! Charge! Charge! Mamma se ti becca con... Non! 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 No ragazzi, no ragazzi, no ragazzi! Come on! We need an engine, we need an engine! It's over the point! Only 20 sec, come on! Vuoi che dormi la porta? Inge is incoming! Yes! Fuoco, fuoco-volontà! E abbiamo fatto 36! GG! Allora Porci, questo era il Myth the Soldier, spero che il video vi sia piaciuto e vi ha dato più del previsto! Se il video vi è piaciuto, guardate il channel, adesso commentate in tutto, il link ai petri di Facebook sempre in descrizione dei video. Se non siete ancora iscritti qua su YouTube, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video con il Myth the Sniper! A presto, ciao ciao! Se non è una fattoria!